Iniziamo, Scipioni Radio Radio. La cosa importante è di aver visto una Roma forte nel secondo tempo perché era necessario soprattutto per tornare a un risultato positivo e quando facciamo 2-2 è sempre molto meglio di essere su due gol sul piano psicologico e tornare al pareggio. Mi è piaciuto il fatto che siamo tornati non solo con il cuore ma anche con il gioco e sul primo tempo noi dobbiamo avere un po' più di continuità e trovare un equilibrio più efficace. Mi spiego, faceva tre partite che chiudevamo senza prendere gol e questa cosa era una buona cosa ma al Genoa e a Udine era possibile tornare con almeno due gol di vantaggio e abbiamo mancato di efficacia davanti. Questa sera abbiamo ritrovato l'efficacia davanti ma abbiamo perso un po' sul piano difensivo. Sappiamo che la Lazio è una squadra che può sfruttare i spazi e per questo non è possibile sbagliare al centrocampo, perdere dei paloni e vedere la squadra avversaria giocare in attacchi rapidi. Era l'unica cosa che abbiamo sbagliato nel primo tempo perché nel futuro quando è così dobbiamo tenere la pala e aspettare il nostro momento perché il nostro momento può venire sempre e l'abbiamo dimostrato anche nel secondo tempo. Giampiero, Aria. Salve, vista questa diversità tra primo e secondo tempo in ottica scudetto per il prosieguo del campionato si sente più rafforzato per questa reazione al secondo tempo o preoccupato per quel primo tempo oggettivamente negativo? No, no, molto contento della rivolta della squadra. Io lo pensavo all'intervallo che questa gara non era finita e la cosa importante è che i giocatori ci credono anche loro e l'hanno dimostrato nel secondo tempo. E' anche vero che il cambio modulo gioco ha permesso, mettendo Miran Pjanic più alto alle spalle dei due centrocampizi avversario, ha permesso al capitano di essere più presente nell'area e abbiamo visto che quando lui ha dei paloni nell'area può essere ancora di un'efficacia geniale perché è stata così la risposta del capitano che ha trascinato la squadra nel secondo tempo. Maida, Corriere dello Sport Buonasera Proprio su questo discorso tattico che stava iniziando la mia curiosità era questa, nel secondo tempo ha cambiato la Roma con due innesti che è una cosa che di solito lei non fa tra il primo e il secondo tempo, due innesti contemporanei. 4-2-3-1, le volevo chiedere il movimento di Totti sul quarto difensore della Lazio, quindi due gol sostanzialmente identici la Roma ha fatto, movimento sul quarto difensore. E' una cosa che avevate studiato, che avevate preparato, che avevate chiesto nell'intervallo, è stato il suo istinto? No, ma sul secondo gol è anche più facile per il capitano andare sul secondo palo perché siamo quattro in area, allora per la difesa dell'adversario è molto più difficile gestire tutti i quattro giocatori. Sul primo è stato veramente anche l'assist di Kevin Strootman, due colpi di genio dei due giocatori forti, il passaggio e la finalizzazione del capitano. Ma questo primo gol era essenziale, come ho detto all'intervallo, la partita non era finita e soprattutto bisognava un gol, solo un gol per far cambiare l'atteggiamento psicologico della gara. E' stato così e rimaniamo noi su una nota molto molto positiva. Certo RDS Sapete cosa ha detto a destro quando è entrato e se riscontra la responsabilità di De Santis sul secondo gol della Lazio? Ma sul secondo gol sappiamo che Anderson è su un nuvole o una nuvola in questo momento e ha fatto un grande primo tempo. Non c'è niente da dire a Morgan perché non vede partire il calcio, il tiro del brasiliano. Su Mattia speravo facendolo entrare che segnava il terzo gol e l'unica cosa che le ho detto che doveva essere concentrato sull'occasione forse che avrebbe avuto sapendo che era anche necessario di dare una mano sulla fascia che non è il suo atteggiamento principale di difendere su una fascia perché è un giocatore di centrocampo, fan di centro del campo. Adamo, centrosuono. Mister, buonasera. Buonasera. Sempre su questo argomento, lei con i primi due cambi ha dato una svolta alla partita, ha ripreso in sostanza una partita che sembrava persa. Il terzo cambio, quello di destro, non ha assortito gli effetti sperati. Nelle sue intenzioni destro doveva prendere il posto di Totti, poi è uscito Iturbe. Esatto. Se avessi saputo che Iturbe era in quelle condizioni, avrebbe fatto lo stesso cambio o avrebbe messo qualcun'altra? No, no, buona domanda perché era previsto per me, si calava a Manuel Iturbe di fare entrare un altro giocatore. Ma il problema della comunicazione è così, a volte non è più possibile avere l'informazione. L'ho avuto cinque minuti prima, Manuel mi ha detto che stava bene, quando ho fatto il cambio ho fatto un'ultima occhiata, mi ha detto che non posso più. Allora era giusto per lui di uscire. Ma sapendo che anche con il capitano con due gol in campo era possibile per il suo piede callo di fare anche un terzo. Allora non era veramente un problema, era anche meno un problema sul fatto che durante 15 minuti è possibile per Mattia giocare su una fascia. Soprattutto perché era entrato anche Cavanda e che Cavanda non è un mancino e che attacca meno che Radu, per esempio. Buonasera, mister. Buonasera. Per usare un'espressione a lei cara, nel secondo tempo lei ha rimesso la chiesa al centro del villaggio. Ma la domanda è questa, chi l'aveva spostata nel primo tempo? Un po' noi con i nostri errori e un po' la Lazio con la sua bravura a mangiare gli spazi e a approfittare dei regali nostri. È una squadra in fiducia, che ha dei argomenti soprattutto sul piano offensivo, una squadra che fa un buon compionato. Per questo anche che abbiamo visto una bella gara, perché per vedere una bella gara bisogna avere due belle squadre. La squadra di Piori è anche una bella squadra. Abbiamo pareggiato, il nostro obiettivo era di vincere. Ovviamente volevamo essere primi soli questa sera, siamo primi alla pari e adesso tocca al Napoli per fare qualcosa e noi dobbiamo concentrarsi sulla trasferta prossima per recuperare i due punti persi questa sera. Leanza è l'ultimo. Mister, in definitiva più rimpianti oppure cosa, vista poi la parata all'ultimo minuto, al novantesimo da parte di De Santis? No, ma anche normale sotto due gol che ci apriamo un po' di più e come ho detto alla squadra, le grandi squadre possono anche giocare come al circo senza rete nel secondo tempo, perché non era più possibile prendere un gol senza perdere quasi la partita. L'abbiamo fatto bene, apriendosi alcuni momenti, ma è stato anche un bel fine di gara, perché c'era ritmo, c'era attacco-difesa da una parte, attacco-difesa da un'altra parte. Penso che era possibile per noi fare meglio su alcuni paloni persi o regalati anche nel secondo tempo. È l'unica cosa, ma rimaniamo, come già l'ho detto, su una nota veramente positiva su questa rivolta, questa rimonta della Roma. Grazie. Grazie.